Ciao, bentornato al programma tv di oggi con notizie come. Gabriel Garco poche ore fa ha ricevuto un messaggio d'amore Ecco chi gliel'ha inviato, in maniera del tutto inaspettata.Questa sera l'attore e modello, ex di Manuela Arcuri, debutterà a Ballando con le stelle, lo show danzanti di Millie Carlucci Per l'occasione si è parlato tanto di lui in questi giorni e qualcuno, proprio oggi, ha voluto omaggiarlo con una dedica sorprendente Scopriamo di chi si sta parlando e quali sono le frasi pronunciate nei confronti dell'uomo. Gabriel Garco è uno dei volti più amati della televisione italiana Emerso come modello, si è fatto largo nel mondo dello spettacolo come attore e personaggio del piccolo schermo Non sono passati molti anni da quando ha partecipato al grande fratello VIP Proprio qui, davanti a tutta Italia, ha fatto coming out, svelando a tutti la propria sessualità Certamente, all'epoca, fu sorprendente per molti scoprire della sua omosessualità, se non altro perché ha avuto diverse donne nella sua vita Tra queste Manuela Arcuri ma anche Eva Grimaldi. Ora che si accinge ad iniziare una nuova avventura nel programma di Millie Carlucci viene da chiedersi, chi è che gli ha fatto una dedica? Ballando con le stelle, tutto pronto per l'inizio. Che chi tifa per Gabriel Garco? La prima serata del sabato Rai è da anni firmata Millie Carlucci Da oggi in poi per tutta la stagione invernale, ad alliettare gli spettatori della televisione di Stato ci sarà lei insieme a diversi VIP che si metteranno in gioco, danzando insieme a dei professionisti Quest'anno tra i concorrenti più chiacchierati anche Iva Zanicchi e Lorenzo Biaggiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, giudice del programma Personaggio che però tutti attendono di vedere con ansia, anche perché la conduttrice ha ammesso di averlo corteggiato per 17 anni, sin dalla prima edizione dello show, è Gabriel Garco Quest'ultimo poche ore fa ha ricevuto un messaggio sui social Ma chi gli è la mandato? Come si vince dalla storia qua su, ad aver inviato un caloroso in bocca al lupo a Gabriel è la sua ex compagna Eva Grimaldi Come gli amanti del gossip sapranno certamente i due sono stati insieme anni prima di separarsi, rimanendo in ottimi rapporti D'altra parte, visto il reciproco coming out è stato semplice instaurare laddove c'era l'amore, una splendida amicizia Così Eva scrive, mi raccomando, questa sera tutti pronti a sostenere la coppia Gabriel Garco e Giadalini Aggiunge quindi un dei E, un braccio alzato, una fiamma e un cuore rosso Insomma, proprio una bella dedica.Grazie per aver guardato l'intero video La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video Ciao e ci vediamo nei prossimi video